Mi chiamo Gaia e sono venuta a conoscenza della Perelle tramite un annuncio su un sito internet. Il colloquio con l'Agenzia mi ha portato a svolgere uno stage di sei mesi in seguito al quale sono stata assunta come apprendista. Grazie all'Agenzia sono potuta entrare per la prima volta nel mondo del lavoro e svolgere il mio primo vero impiego. Grazie all'Agenzia ho potuto anche conoscere nuove cose del mondo del lavoro.